I giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta hanno confermato la condanna ad un anno e due mesi di reclusione per l'imprenditore Maurizio Melfa. I magistrati nisseni hanno valutato il ricorso presentato dalla difesa, sostenuta dall'avvocato Giacomo Ventura. L'imprenditore fu coinvolto in un'indagine su fatture rilasciate per sponsorizzazioni, allora concentrate sulla società di volley Eraclea. Per gli inquirenti si sarebbe trattato di operazioni solo fittizie per aggirare il fisco. In primo grado fu scelto l'abbreviato, con la condanna poi impugnata in appello. Anche davanti ai giudici nisseni la difesa ha escluso l'esistenza di elementi che potessero collegare l'imputato ad operazioni irregolari. Lo stesso Melfa ha sempre parlato di sponsorizzazioni reali destinate alla società di volley. I giudici della Corte d'Appello dopo un rinvio tecnico ieri hanno emesso la decisione confermando la condanna. Altri imputati coinvolti nella stessa indagine sono invece a processo davanti ai giudici del Tribunale di Gela. Nello stesso procedimento la condanna era stata pronunciata per una collaboratrice dell'azienda dell'imprenditore. Probabilmente la difesa valuterà le motivazioni di secondo grado per poi rivolgersi alla Cassazione. Proprio la difesa già in primo grado aveva sottolineato la totale regolarità delle operazioni escludendo irregolarità proprio per le procedure di sponsorizzazione destinate alla società di volley. I giudici di appello hanno comunque valutato quanto già deciso in primo grado e confermato la decisione.